No, se stai volendo... La pillo, dai te che... Allora... Sotto i 18, sotto i 18... Ma le mani è niente... Ma che ti stai... Ma che ti stai... Io non scattano... Ma che ti stai... Si stava in attimo rilassando... Non è possibile... Ma ci fai pococi un articolo... Pococi un articolo... Mi faccio vedere... Mi faccio vedere... Mi faccio vedere... Mi faccio vedere... Ok, no... Ok, se lo vedo... Hai criticato la signora... Nella volontà... No, no... Benissimo...